Le notizie che arrivano dalla Cina, quanto la preoccupano queste di Pechino? Ma allora a me mi preoccupano molte cose, Pechino sì, ma per esempio mi preoccupa molto la situazione negli Stati Uniti con queste proteste che sono proprio un sistema perfetto per amplificare ancora l'infezione. Io temo ondate multiple negli Stati Uniti. Allora, torniamo all'inizio.